Oh, eccoci qui di nuovo sul secondo canale per una comunicazione veloce veloce. Per chi di voi non lo sapesse, questo sabato, quindi sabato 14 giugno, al Fanta Comics and Games di Gagliate, quindi alla fiera sostanzialmente del fumetto di Gagliate Novarese, gran parte del cast di Skypocalypse è stato invitato appunto per tenere una conferenza e per farvi vedere, diciamo, delle cose, delle cose, quindi io vi consiglio veramente ardentemente di esserci. Ecco, noi terremo, se non erro, questa conferenza intorno alle 4 del pomeriggio, penso che arriveremo lì alla fiera di Gagliate un pochino prima, e niente, spero di vedervi numerosi, anche perché il giorno dopo è il mio compleanno, quindi io voglio vedervi veramente numerosi a questa fiera, gran parte del cast di Skypocalypse, se ne saranno delle belle, e niente, io veramente spero di incontrarvi tutti e ci vediamo lì. Grazie. Grazie.